Un confronto tra il pittore Antonio Mancini e lo scultore Vincenzo Gemito, 140 opere di vari materiali e tecniche, dalla pittura su tela e su tavola, alla scultura in terracotta, cera, bronzo, marmo e al disegno. E Vittorio Sgarbi a presentare la mostra Antonio Mancini e Vincenzo Gemito in esposizione da sabato 14 ottobre nel Museo dell'Ottocento, Fondazione di Persio Pallotta, Iconugi, Suoi Amici. Certamente io ho molto sostenuto il museo e la collezione di Mancini del museo è importante, averla legata a tante opere che restituiscono la personalità di questo pittore è sicuramente una cosa che poteva fare Milano o Roma soprattutto e che Pescara fa arrivando quindi al rango di una capitale come Parigi dove fu già fatta la mostra di Gemito. Quindi io ho in qualche modo fecondato questa iniziativa che era nella mente il desiderio, nel piacere del fondatore del museo Menceslao di Persio e che oggi onora la città di Pescara. Non è la prima volta di Sgarbi ad eventi nel Museo dell'Ottocento in Viale d'Annunzio, una frequentazione che gli ha consentito di apprezzare la vitalità culturale della città di Pescara. Beh la vitalità è che riaccende l'attenzione sull'Ottocento che è il secolo di D'Annunzio, che è il secolo di Michetti e poi apre al secolo di Flaiano, quindi le personalità importanti di Pescara sono tali da renderla sicuramente un luogo che si può ripercorrere con la memoria. Per cui quello che accade è giusto che accadesse insomma.